L'agguato nel quartiere diplomatico di Dhaka, capitale del Bangladesh, su cui si allunga l'ombra dello Stato Islamico. Un cooperante italiano, Cesare Tavella, di 51 anni, è stato ucciso per strada da tre uomini in moto. Una raffica di colpi mentre faceva jogging, almeno tre spari, secondo le dichiarazioni dei testimoni. E' accaduto ieri sera alle 19, solo poche ore dopo l'Isis rivendica l'attentato. E' la direttrice di site, il sito di monitoraggio del jihadismo del web, che riporta la scioccante rivendicazione. In un'operazione speciale dei soldati del califato in Bangladesh, una pattuglia ha preso di mira lo sfreggevole crociato Cesare Tavella, dopo averlo seguito in una strada di Dhaka, dove gli è stato sparato a morte con armi silenziate. Sia lode a Dio, ai membri della coalizione crociata, diciamo, non sarete sicuri nelle terre dei musulmani, è solo la prima goccia di pioggia. Le autorità italiane stanno verificando l'attendibilità. La Farnesina ha confermato la notizia, mentre l'ambasciata italiana, che ha informato la famiglia, sta seguendo il caso in stretto contatto con gli inquirenti locali. A Dhaka, Cesare Tavella, nato a Milano, ma residente a Casola Valsegna, paese dell'Appennino Ravennate, lavorava come project manager per una ONG olandese, la Ico Cooperation. In Bangladesh ci sarebbe una considerevole presenza islamista e le modalità dell'uccisione sembrano indicare che l'obiettivo fosse proprio Tavella. Difficile per ora capire se l'italiano fosse nel mirino in quanto cooperante di una ONG occidentale o per altri motivi. Grazie.